Namaskaram Sadhguru, la mia domanda è, cosa dovremmo fare quando siamo arrabbiati? E come gestire la rabbia profondamente radicata? Dipende, chi è la vittima? Tu, per favore. Supponi che sei arrabbiata con tua madre, ti comporti in un modo. Sei arrabbiata con la tua amica in un altro modo. Sei arrabbiata con il tuo professore? In modo completamente diverso. Sì o no? Allora, chi è la tua vittima in questo momento? Di conseguenza dovresti agire. Ma ora, fai questa domanda come se la rabbia fosse parte naturale di te. Sei arrabbiata adesso? Come ti chiami? Rohini, sei arrabbiata adesso? No. Allora, perché ti preoccupi della rabbia? Una volta ogni tanto ti arrabbi. Sì? Ti arrabbi. La rabbia non ti capita. Ti arrabbi. Ti piace? Non ti piace. Allora, perché lo fai? Vedi, intorno a noi così tanta gente farà così tante cose che non ci piacciono. Sì o no? Succedono così tante cose a Mumbai. Cose che non ci piacciono succedono tutti i giorni. ma almeno dentro di te. Solo ciò che vuoi dovrebbe succedere qui dentro. Non è vero? Non posso decidere che solo ciò che voglio debba succedere con te. Ma posso certamente decidere che solo ciò che voglio debba succedere dentro di me. Non è vero? Se potessi decidere che solo ciò che vuoi succeda dentro di te, sceglieresti rabbia o gioia. Qual è la tua scelta? Per favore scegli, ti benedirò. Vedi, vuoi il livello massimo di piacevolezza per te stessa, non è vero? Allora, perché una cosa del genere non succede? Come ho detto prima, non hai mai letto il manuale di istruzioni. Come funziona questo non è stato osservato. Non seguire l'esempio delle persone che sono venute qui qualche anno prima di te. Che, no, 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 anche mia madre era così, anche mia nonna si arrabbiava, quindi anche io mi arrabbio. Non dovrebbero essere i fari della tua vita. Voglio che tu osservi questo. Il tuo pensiero, le tue emozioni, il tuo corpo, devono accadere come vuoi, non è vero? Se qualcun altro può decidere cosa debba succedere dentro di te, questa è la schiavitù massima, non è così? Ciò che succede intorno a te, forse lo possiamo decidere, ma nessuno dovrebbe decidere, eccetto te stesso, cosa succede dentro di te. Se decidessi tu, manterresti questo nel massimo stato di piacevolezza di sicuro. Non staresti a combattere con la rabbia. Non si tratta solo di rabbia, paura, stress, tensione, non li considerare separatamente. Essenzialmente, la tua mente non sta prendendo istruzioni da te. Perché? Perché non sai ancora dove è la danata tastiera. Ti abbiamo dato un super computer, non sai dove sia la tastiera, quindi un giorno hai fatto questo, qualcosa ha funzionato, un altro giorno hai fatto questo, qualcosa ha funzionato, lo sai. Hai visto delle persone? La radio non funziona. E a volte funziona. Non è una tecnologia, è un caso. Lo hai visto? Se qualcosa non funziona, la gente pensa, toc toc, funzionerà. E tanta gente lo usa anche per gli esseri umani. Qualcosa non funziona, toc toc, e funzionerà. In Tamil Nadu ci hanno detto, Naalukudutta elamsarihaidum. Significa, se li schiaffeggi quattro volte, tutto andrà a posto. Non va a posto così. N CAMARA No vedi. divinanzare. Sì, è un contrato. C'è un'imm망chia dibbico Sareesimi.